Grazie al computer e a tutte queste nuove app da Telegram a Whatsapp, da Viber a Skype e compagnia briscola, adesso TUTTI sono in grado di comunicare con il mondo intero. Non ci resta che aspettare un software che spieghi cosa dire. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia, e sto dicendo che sono un tecnico perché lo so quello che sono. Ma voi lo sapete quello che volete? Sicuri? Vi dico questo perché spesso mi capitano di quei clienti che non sembra abbiano le idee ben chiare, e così le cose si complicano. Ad esempio mi capita a questo cliente, gli dico che il suo computer è stato riparato, e subito mi fa «Potrebbe guardarmi il masterizzatore?» Sì, lo vedo, lì sul frontale del case. Cosa c'è che non va nel masterizzatore? Non legge, o non masterizza, o non si apre? Non lo so. Come non lo sa? Ma li legge i dischi? Sì. Masterizza CD e DVD? Sì, certo, entrambi. Riscrivibili, dual layer e roba del genere? Sì, certo, naturalmente. Ma… allora cos'è che non va? Eeeh… non lo so, sa, non ne capisco molto. Chiaro. Probabilmente non gli serviva il caffè caldo ogni mattina. E se pensate che sia complicato, credetemi, non avete visto nulla. Infatti ora vi devo lasciare. Ieri sera uno mi ha lasciato un mouse e mi ha chiesto di formattarlo. Ciao a tutti, e alla prossima! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti